Sasha Banks e Naomi fuori dalla WWE andiamo un attimino indietro, ovvero andiamo indietro a questa notte a cosa è successo o cosa non è successo a Raw era previsto un incontro valido per il number one container match a questo incontro dovevano partecipare Asuka, Becky Lynch, Nicky Cross Nicky Ash, scusate, ancora Nicky Cross Nicky Ash, due drop e appunto sia Sasha che no l'incontro è diventato invece un uno contro uno si sono affrontate alla fine Asuka e Becky non vi dico il risultato ovviamente se dovete ancora vedere la puntata ma cos'è successo per aver fatto cambiare alla WWE i piani per far diventare un incontro a sei un incontro single finita la puntata di Raw sono uscite fuori tutte le voci ma anche durante Raw comunque leggermente prima che finisse Fightful ha lanciato la notizia Sasha Banks e Naomi hanno consegnato si fa per dire le cinture da campionesse e sono andate via durante la registrazione ovviamente la diretta di Raw tutto questo ha portato addirittura a un comunicato della WWE comunicato effettuato dopo la fine di Raw dove dice che ci sono state praticamente in poche parole delle divergenze abbastanza pesanti tra Sasha e Naomi e la WWE Sasha e Naomi hanno parlato hanno parlato con John Larinatis e hanno addirittura lasciato le cinture sul tavolo hanno preso e sono andate via sembra più una cosa di Sasha con Naomi che ovviamente ha avvallato il tutto andiamo cerchiamo di ricostruire cosa può essere non cosa può essere successo cosa è successo in base alle notizie che abbiamo fino a questo momento poi ovviamente cercheremo magari di scoprire di più magari scopriremo che è un work si fa molta fatica per esempio c'è il fatto che c'è stato comunque un comunicato della WWE comunicato dove la WWE parla apertamente anche di script cosa che credo che non sia mai successa nella storia della federazione come non è mai successo il fatto di dover fare un comunicato per giustificare l'assenza delle due lottatrici visto e ammettendo poi comunque che c'è stato effettivamente un problema tra loro e la federazione si parla comunque da tutte le parti di condotta anche non professionale da parte di Sasha e Naomi al momento seguendo anche il comunicato della WWE Naomi e Sasha pare non essere non siano soddisfatte per quello che concerne il titolo della della divisione di coppia della WWE su queste basi ovviamente non sappiamo su cosa perché non sappiamo prima di tutto se è vero e soprattutto non sappiamo se effettivamente è vera questa situazione non le notizie le altre notizie che sono arrivate sono appunto da parte di Fightfoot raccontato dei problemi e Shansop praticamente si parla quasi di frustrazione delle due e soprattutto durante tutta la giornata Sasha e Vince compresa poi anche Naomi hanno parlato tutto il tempo per cercare di cambiare qualcosa nell'incontro però nel main event che doveva essere di Raw quello tra tutte le partecipanti tra i sei partecipanti per il titolo scusate per il number one contender del titolo femminile di Raw che la vincitrice sarebbe poi dovuta andare a Nelly Nessella ad affrontare Bianca Belè divergenze Sasha si dice che pare che le due o una delle due non volesse lavorare con un paio di atlete si parla di Doudrop e Nicky Ash voce smentita che meno male perché comunque non sarebbe mai bella una cosa del genere quindi ci fidiamo della smentita smentita va avuta nei vari vari canali internet adesso stiamo cercando tra i vari twitter e le varie notizie cosa sta uscendo fuori quindi comunque sembra una cosa smentita fatto sta che le due hanno deciso di andarsene durante la puntata di Raw mossa sorpresa non si sa quanto pare non è stata così tanta non è stata una sorpresa perché come dicevo la tensione tra Sasha e Vince McMahon c'è stata durante tutto il giorno sembrava rientrata sembrava si fossero convinti tutte e due di che fosse stato tutto a posto poi però è andato è saltato tutto è andato tutto definitivamente all'aria con Sasha e Naomi che hanno preso questa decisione di andare via durante la puntata di Raw perché abbiamo chiamato il video Sasha e Naomi fuori da WWE perché questo è un fatto comunque molto grave come ho detto in precedenza non è mai capitato che la WWE dovesse fare un comunicato per giustificare una cosa del genere salvo poteva capitare degli infortuni all'ultimo momento comunque cose molto molto gravi e la WWE è anche un'azienda quotata in bolsa l'ha già annunciato un incontro un incontro che non c'è stato quindi si è dovuta praticamente scusare sul perché non c'è stato questo incontro sappiamo che Sasha ha avuto dei problemi due o tre anni fa se non sbaglio tre anni fa molto sì più o meno era tre anni fa con la WWE infatti il suo contratto è molto molto oneroso è riuscita poi a ottenere il massimo di quello che lei potesse sperare dal suo contratto e pare che la frizione tra la federazione e le due notatrici sia sia pesante in questo caso sembra che si possa andare incontrano un licenziamento o chiamiamole dimissioni se così si può dire da parte delle due questo al momento non è dato saperlo certo che ci siamo svegliati con una notizia bomba perché non è praticamente mai capitato che gli atleti di Abilaoli così come le altre federazioni decidessero di andarsene via durante poi comunque registrazione che invece è diretta ovviamente una puntata dove poi comunque erano previsti degli incontri quindi la situazione tra le tre tra le tre parti in caso comunque WWE Sasha Banks e Naomi sembra essere molto molto seria però ci può essere anche la una strada che sia un work si fa molta 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 fatica però pensare che possa essere un work proprio per già detto due volte ve lo ripeto per il discorso del comunicato della WWE quando ci sono dei comunicati è sempre bisogna tenere sempre le orecchie tese perché appunto come dicevo prima un'azienda è quotata in borsa e non può fare troppi chiamiamoli scherzi alla gente quindi la situazione è molto probabilmente ancora da monitorare nelle prossime ore o settimane giorni vediamo scopriremo effettivamente cosa cosa è successo in base a quello che sappiamo al momento sappiamo soltanto di questa discussione e tutto ha portato a loro che si sono sono andate via da 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 e comunque in ogni caso hanno saltato la puntata vediamo se in queste ore e minuti ci saranno delle ripercussioni molto probabilmente sono fatti contrattuali la wwe stessa nel comunicato ha scritto che le lottatrici e i lottatori in generale devono addempiere a degli obblighi contrattuali che hanno ovvero partecipare in questo caso e partecipare a una sciocosa che Sasha e Naomi non hanno fatto quindi qua si potrebbe in questo caso si potrebbe raggiungere un licenziamento per quella che in Italia avrebbe chiamata giusta causa e comunque sono le lottatrici che hanno deciso di non addempiere a dei loro doveri quindi vediamo cosa succederà vediamo se dovremo darvi altre informazioni se durante le nostre trasmissioni dobbiamo parlare di più di questo argomento ma al momento sappiamo che Sasha e Naomi sono andate via da Raw vedremo se andranno via anche dalla WWE con questo è tutto se il video vi è piaciuto mettete semplicemente un like e grazie ci vediamo la prossima volta ciao